Comunità fisica Battaglia di Leuten, 5 dicembre 1757, villaggio della Slesia, vicinanza di Breslavia, Polonia, nemici. Prussia-Austria, guerra dei sette anni, 1756-1763 Un anno dopo l'invasione della Sassonia tedesca, avvenuta nel 1756, l'esercito austriaco e quello prussiano si scontrarono sul campo di Leuten. Gli austriaci contavano su 210 cannoni e circa 90.000 uomini, tra cavalleria e fanteria, mentre i prussiani su 167 cannoni tra pesanti e leggeri e circa 36.000 uomini, tra cavalleria e fanteria. Federico II, invece di attaccare frontalmente lo schieramento nemico, come era abitudine di guerra, fece eseguire all'esercito una marcia di fianco, con la quale condusse le sue armate contro l'ala degli austriaci. Il principe Carlo di Lorena tentò allora di effettuare una conversione del fronte, ma non poteva impedire ai prussiani di attaccare la sua ala, quando questi avevano già sbaragliato la cavalleria. Gli austriaci, privati dei reparti a cavallo, si ritirarono su una linea arretrata, ma vennero attaccati e accerchiati su entrambe le ali dalla cavalleria avversaria, e furono costretti a fuggire a Breslavia. Nella battaglia perirono e furono feriti 1.500 prussiani. Gli austriaci persero 10.000 uomini e 12.000 furono catturati. Tutta la Slesia, ad eccezione di Scheibnitz, cadde in mano al re di Prussia. Perché? Commento. Perché l'evoluzione collettiva di allora, poco più di tre secoli fa, esigeva che quei popoli, uniti nella realtà spirituale, nella stessa comunità fisica, si massacrassero. Infatti, la comunità fisica contiene, bene al di là dei popoli che la compongono, tutti gli individui che hanno affinità evolutive, come si dimostrano adesso gli austriaci, i tedeschi, i polacchi ed altri. Grazie a tutti.